Centro-destra e centro-sinistra si rimpallano le responsabilità della crisi delle terme di Caramanico. L'assessore Mauro Febbo, che ieri ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori in Sittin sotto la regione, ha puntato il dito contro l'amministrazione d'Alfonso, rea di non aver capito la gravità della situazione. Attualmente ci sono 400 lavoratori con tutto l'indotto appesi ad un filo e stipendi fermi a cinque mesi fa. Nell'incontro di ieri la regione ha spinto per una riapertura a metà luglio, ma le tempistiche sono tutte da verificare. Intanto è scontro politico con Silvio Paolucci del Partito Democratico, ex assessore al bilancio della passata giunta regionale, che risponde così all'accuse di Mauro Febbo. Sia nel tavolo tecnico convocato dall'assessore alle attività produttive che nella risposta dell'assessore Campitelli, l'unico oggetto della discussione è il governo regionale di cinque mesi fa. Ma io penso che invece oggi bisogna governare. C'è un mandato dato dai cittadini, raccolto dal 50% dei nostri elettori, che dice a questo governo regionale di governare. Ma Marsilio ci è mai andato a Caramanico? Si è mai seduto su un tavolo così drammatico come quello che coinvolge circa 200 lavoratori, albergatori, commercianti, un'intera vallata e intere comunità? Non è possibile rispondere è stato chi c'era prima, quando il tuo presidente non si siede nemmeno a un tavolo di trattativa come quella.